nato in giappone alla fine del 1800 il judo la cui parola significa la via della gentilezza dopo aver trionfato alle olimpiadi di tokyo con odette giuffrida e maria centracchio che hanno conquistato per l'italia ben due medaglie di bronzo ha dimostrato di essere una disciplina ideale anche per le donne soprattutto per quelle che oltre a volersi mantenere in forma hanno deciso di praticare questo sport a difesa della propria incolumità fisica l'oratorio della stazione di cucurano in collaborazione con il circolo acli giburrai e le acli provinciali organizza un corso pratico teorico di legittima difesa femminile giovedì 4 maggio alle ore 21 presso la sala della fraternità della parrocchia di cucurano interverranno andrea mencucci presidente judo club fano istruttore di quarto livello attiglio mascarucci allenatore di terzo livello insegnante del metodo globale di autodifesa e luigi viola istruttore di difesa personale militare con un brevetto conseguito presso la polizia di stato il percorso formativo gratuito e aperto a tutti è orientato a sviluppare con le partecipanti le tematiche principali della difesa femminile fornendo nozioni tecniche di prevenzione atteggiamento e difesa utili a evitare situazioni di pericolo e aggressioni saranno presenti anche gli allieve del corso del metodo globale di autodifesa che eseguiranno alcune tecniche di base per rendere inoffensivo l'avversario attraverso l'immobilizzazione un modo per imparare a difendersi nella speranza di non doversi mai naturalmente trovare nella situazione di doverlo fare come si articola esattamente il corso e chi può partecipare allora il corso si articola in maniera mono settimanale e presso la palestra della nuova scuola di cucurano e possono partecipare tutte le donne da 18 in su esiste una tecnica che tra le prime che si imparano sia appoggiare le mani si ci sono allora la nostra attività è basata sulla neutralizzazione del dell'avversario senza diciamo porre senza fare violenza e quindi anche un attività a livello psicologico cioè nel senso che bisogna far vedere sempre la sicurezza all'avversario che e poi porta allo spiazzamento di delle sue attività aggressive la fisicità comunque di una donna è diversa da quella di un uomo sì ovviamente sì però noi insegniamo a sfruttare la forza dell'avversario come appunto ci indica il principio del judo questi corsi di autodifesa hanno dei risvolti psicologici senza dubbio la cosa che insegniamo è soprattutto tenere un aspetto di sicurezza quindi in fondo un aspetto di sicurezza e quindi per affrontare al meglio queste situazioni svantaggiose che si devono giocare tutto anche sotto il punto di vista psicologico come vi è venuta l'idea di fare questo corso sulla difesa personale femminile ma è stata una sfida soprattutto abbiamo abbiamo nella società abbiamo un ex poliziotto un ex ispettore di polizia che ha lavorato quindi con nell'ambito della polizia giudiziare che quindi ha avuto queste esperienze no di da parte del come come diciamo nel suo ambito professionale e quindi mi ha chiesto di di attivare questo corso e abbiamo cominciato a lavorare insieme da prima con un paio di allieve adesso siamo una decina di allieve che partecipano a questo corso